bene buongiorno a tutti benvenuti io sono andrea di nk e negronichi engineering part in un partner di autodesk giusto per il tema di oggi che è sicuramente molto interessante intanto saluto paolo formaglini che è virtualmente di fianco a me e che terrà questa questa webcast sul tema di di enscape e quindi la possibilità di rendere in tempo reale che così intanto subito una un check velocissimo mi sentite tutti chiaramente problemi di ascolti se ha un problema fate gioco sapere così eventualmente magari interveniamo a chi ha visto che tre partecipanti che siete numerosi come sempre ci sono dei nostri nostri clienti quindi li saluto ma intanto presente nk e invece non ci sono scena siamo una realtà ormai da più di trent'anni nel mondo del cad e adesso ovviamente del bim ma in realtà di tutta la progettazione digitale abbiamo 17 sedi in italia e 5 in spagna quindi abbiamo ottenuto da ormai da da un po una dimensione diciamo internazionale che per i partner autodesk è molto molto importante intanto guardo un attimo i feedback si sente perfetto quindi procedo velocemente con queste slide di company profile ma non voglio darvi più di tanto quindi siamo autodesk platinum partner lo siamo da quasi 7 anni siamo gold partner hp e distribuiamo anche un marchio interessante nuovo per le stampanti 3d che è robuse quindi siamo specializzati in tutto quello che ruota attorno al mondo della progettazione digitale autodesk che non ha bisogno di persone ovviamente è il la software house internazionale che più di altre ha spinto la sua i suoi software in ramo della progettazione che vanno dalla manufacturing quindi alla parte automotive a parte di essi architettura ingegner in construction e quindi alla parte di bim alla parte infrastrutture anche questa che sta crescendo molto in questo ultimo tempo e poi la parte media entertainment è quello di 3ds max e di maia per la cinematografia e la post produzione televisiva le animazioni hp è il nostro partner cipale vendiamo tantissime workstation quindi abbiamo anche prezzi molto aggressivi tec informazioni perché per utilizzare questi software occorrono ovviamente per escape quindi ci sono delle configurazioni ideali per poter progettare con questi software con revite con inventor con tutti i prodotti autodesk quindi chiedetici informati e chiedetici anche ovviamente l'offerta commerciale le stampanti 3d print di dhp e questi siamo rivenditori sono ormai stampanti che hanno raggiunto un ottimo livello di velocità e soprattutto sono stampanti produttive quindi non solo prototimi ma proprio per la produzione robos anche questa è una realtà nuova italiana su di italiana di stampanti per il mondo principalmente del manufacturing i servizi dnk penso che molti di voi già li conoscono noi siamo autodesk training center quindi siamo in grado di certificare con i certificati autodesk tutti i nostri tutti quelli che coloro che partecipano ai nostri corsi facciamo corsi online facciamo corsi on site quindi presso il cliente facciamo personalizzazioni facciamo affiancamento progetto facciamo anche cad to bim cioè siamo in grado di trasferire i vostri disegni in cad in modelli bim intelligenti sviluppiamo applicazioni ad hoc per qualsiasi esigenza ovviamente dei nostri clienti le certificazioni cmq il brand che sponsorizziamo ormai da più di tre anni abbiamo certificato quasi 300 persone bim specialist bim coordinator bim manager bim data manager in speranza alla norma 11 337 esattamente la 7 sulle figure professionali del bim quindi chiedeteci anche più informazioni stiamo stanno partendo diverse sessioni per andare a certificare i nostri i nostri clienti sulle figure professionali masterclass molto importante un nostro fiore all'occhiello bim for work ne sta partendo una sessione ma in data completa sono più di 120 ore di corso approfondito sull'arte di bim autoring di revit quindi un corso approfondito di revit ma non solo ci sono anche le novità quindi se volete andate sul sito www.bimforwork.com e vedrete le date dei nuovi corsi in partenza sono online quindi li abbiamo sempre fatti on site nelle nostre sedi di bari di napoli e del sud però lo stiamo portando tutto online perché c'è una grande richiesta di formazione formazione altamente specialistica e approfondita su questi temi l'e-learning è la piattaforma di nke nuova vi trovate tutti i corsi su quasi tutto software autodesk e quindi non solo revit ma civil 3d navis works e chi è ovviamente adobe tenuto anche da paolo formaglini quindi c'è veramente tutto lo scibile per la progettazione digitale quindi andate sulla piattaforma cercate il vostro corso direttamente potete usufruirlo dalla piattaforma e online questi sono invece i corsi che partono con il cliente su learn for work ci sono corsi registrati qua invece sono corsi live ma sempre online questi sono quelli programmati sicuramente per le figure di b special il coordinator manager e poi c'è anche un corso online di civil 3d che è partito il 29 settembre ma comunque si si può tranquillamente iscrivere perché tanto ci sono anche le registrazioni quindi una delle delle cose importanti per quanto riguarda l'e-learning è proprio quello di avere poter partecipare dal vivo ma anche poter vedere le lezioni registrate che è importante io ho finito quindi adesso passo parola e il video a paolo che vi introdurrà nell'argomento di oggi i nostri conti vedete nk360.com è il sito bimconference.it dove ci sono le case history principali dei nostri clienti più importanti sono sul bim e non solo bim for work per il master class il nostro master che ormai è tutto online e learn for work per la parte di edu e di di learning tutto online per qualsiasi info nk360.com e poi seguiteci sui social linkedin facebook twitter c'è il canale youtube ecco questa per chi non può vederla tutto insieme oggi sarà postata su youtube e sul nostro sito quindi può tranquillamente rivedersela dopo qualche giorno e ovviamente su instagram bene io rendo paolo che vi intanto si presenta paolo insegna all'università di firenze è uno secondo me dei massimi esperti del del mondo sicuramente adobe ma anche del mondo diciamo virtuale quindi virtual reality scan to bim eccetera quindi sicuramente una persona molto molto informata sulle nuove tecnologie che in grado di trasmettervi anche la sua la sua passione e tutta la sua conoscenza oggi parleremo di escape per revit quindi prodotto che nk e distribuisce vende insieme ovviamente a revit prego ti lascio la parola e ovviamente grazie mille grazie mille andrea e quindi ne approfitto ancora per dare il benvenuto a tutti e darvi il buongiorno e in cui affronteremo questo a oretta insieme in cui avremo la possibilità di scoprire quali sono i punti i punti cardine del corso che poi partirà il 17 novembre sempre sulle piattaforma nk e di learn for work mi approfitto concedetemi solo qualche secondo per ringraziare come doveroso fare sia le figure di nk e nello specifico andrea torre che ha fatto la presentazione pochi secondi fa e anche eleonora riva per tutto il supporto che ci dà per dare la possibilità a voi di poterci seguire in in diretta approfitto anch'io per sapere per avere qualche feedback se mi sentite bene se ci sono scatti e soprattutto se vedete il il monitore quindi la presentazione e quindi vedo già allora eccolo qua si vede si sente bene sente benissimo perfetto allora e possiamo cominciare e mi presento sono paolo formaglini mi occupo all'interno di nk e per quanto riguarda tutto il mondo della grafica partendo dal mondo adobe e anche per quanto riguarda il mondo delle scansioni e quindi la digitalizzazione di ciò che è reale portato all'interno dei del mondo virtuale quindi il mondo del computer e tutte le relative applicazioni e sono qui oggi insieme a voi proprio per presentarvi un corso eh che insieme ad nke abbiamo cercato di eh fare eh al meglio possibile nel senso di dare importanza a tutto ciò che è la visualizzazione dei propri progetti perché sicuramente sappiamo benissimo che è fondamentale cercare di avere un progetto curato nei minimi dettagli ma per quanto riguarda poi la realtà la presentazione sul cliente al cliente o alle pubbliche amministrazioni eccetera diventa fondamentale la cosiddetta copertina cioè l'immagine con il quale si presenta il nostro progetto che di fatto è eh la carta d'identità eh il il modo diciamo così la visualizzazione reale di ciò che noi abbiamo pensato nella nostra testa e poi dopo trasferito eh in un disegno e soprattutto voglio subito dire che uno degli elementi più importanti è il fatto di eh di cosa si va ad apprendere in questo corso cioè questo corso che sarà comunque un corso breve perché saranno sei lezioni di due ore quindi per un totale di dodici ore vi darà la possibilità di essere indipendenti con il vostro software quindi di conoscerlo in profondità in maniera tale che dal vostro progetto eh di Revit in questo caso eh serate poi in grado di tirare fuori le vostre presentazioni con il massimo della qualità ed che sia esattamente ciò che eh avete in in testa cioè quali eh sono i vostri obiettivi dal punto di vista della immagine e quindi mh proseguendo per questo ragionamento la prima domanda che eh ci dobbiamo in qualche maniera porre è proprio il perché dobbiamo andare a lavorare con Enscape e allora proviamo a dare alcune risposte veloci e poi dopo passiamo a una diciamo così una modalità direttamente live in cui vi faccio vedere alcune particolarità di Enscape che poi dopo andremo ovviamente ad approfondire assieme durante il corso. Apro una piccolissima parentesi eh il corso eh sarà diciamo così in diretta cosa vuol dire? Vuol dire che avremo una partecipazione tutti assieme in modo tale che non siano semplicemente delle slide che vi dobbiate eh subire in qualche maniera uso questo termine cioè eh sarà una collaborazione insieme avrete la possibilità ovviamente di farmi anche delle domande eh attraverso il microfono o attraverso la chat e quindi saranno delle lezioni collaborative al fine proprio di darvi eh la possibilità di eh diciamo così camminare da soli attraverso il mondo della rappresentazione quindi torniamo alle nostre domande al perché Enscape cerchiamo un attimo di definire alcune cose innanzitutto un primo aspetto è un'integrazione totale con con Revit e quindi tutti i materiali tutte le luci impostate da Revit vengono automaticamente trasferite su Escape e questo è un aspetto sicuramente importante altro aspetto fondamentale è la visualizzazione in real time cosa vuol dire vuol dire che ho la possibilità di suddividere le finestre di vedere contemporaneamente eh il mondo di di Revit e il mondo di eh Enscape e ogni modifica che io vada a fare su Revit come cancellare un qualcosa modificare una misura aggiungere eh qualche elemento ovviamente viene quindi viene poi trasferita anche in eh Enscape direttamente poi eh una cosa che non diciamo così un aspetto che non è da poco ed è comunque importante eh per per tutti noi è in lingua italiana e quindi ci può sicuramente facilitare sia l'apprendimento ma soprattutto anche l'uso del eh del software stesso in più è semplice e questo è un altro aspetto fondamentale cioè quando noi eh penso come tutti insomma eh nell'ambito architettonico o di design eh si arriva in fondo a un progetto eh poi ovviamente diciamo così un po' generalizzo però eh spesso capita così perlomeno eh nei miei casi si arriva sempre un pro di fretta e avere la possibilità di avere un software semplice significa avere un software che ti può supportare nei momenti diciamo così più difficili quindi quelli della cosiddetta consegna e quindi mi dia la possibilità di attraverso alcuni eh parametri di poter settare subito delle immagini efficaci ciò non vuol dire che basti un pulsante per avere subito qualcosa di definito e perfetto ovviamente bisogna un po' lavorarci però il fatto che eh diciamo così abbia nelle peculiarità appunto la semplicità significa che comunque mi dà una strada più agevole per arrivare ai miei obiettivi in più la semplicità non è a scapito della qualità perché i render o comunque le immagini che escono da in scape sono immagini professionali a livello di qualità sono pulite sono nitide sono diverse fra loro capiremo dopo cosa vuol dire questo concetto di diversità e quindi perlomeno ad esempio una vegetazione non sarà mai identica all'immagine eh precedente e questo è un aspetto che rende eh una sequenza di immagini perlomeno più reale e di conseguenza è un aspetto che eh va considerato perché perlomeno può porre il mondo di escape direttamente a confronto con tanti altre realtà software sicuramente anche più eh blasonate ecco poi è un altro aspetto importante a 1932 ads ads eh cioè cosa vuol dire elementi che noi possiamo direttamente inserire all'interno della nostra scena o del nostro progetto di Revit che poi possono essere renderizzate con e scape cosa vuol dire vogliono dire eh vegetazione animali eh elementi di arredo e così via questi ehm modelli che vengono inseriti all'interno del del nostro software eh di Revit in questo caso eh sono elementi ben curati e soprattutto sono sempre in espansione cioè la software house di escape eh ad esempio proprio sarà il caso di novembre farà un upgrade per portare questo numero ancora superiore quindi avremo la possibilità ad esempio di tanti modelli d'arredo subito pronti per l'utilizzo e già configurati con tutti i loro materiali ulteriore aspetto anche questo estremamente importante è l'uscita multiformato cosa vuol dire vuol dire che io posso eh non semplicemente solo realizzare delle immagini che sono molto importanti e sono probabilmente la cosa più eh l'aspetto più importante per un motore di di render ma posso uscire e scegliere anche delle visualizzazioni video così come posso scegliere anche delle panoramiche a 360 gradi una realtà virtuale oppure altri aspetti che vengono definiti stand alone oppure collab che sono aspetti unici di questo software cosa vuol dire vuol dire che ad esempio tramite le panoramiche 360 gradi io posso direttamente inserirle all'interno di una piattaforma web così che il cliente possa vedere in diretta ciò che si sta facendo o il cliente così come il committente ovviamente cioè far rendere subito portare dentro una sorta di realtà virtuale eh perché proprio realtà virtuale non è la panoramica 360 eh però per far rendere conto poter far girare e creare del movimento all'interno della rappresentazione così come lo stand alone lo stand alone è la possibilità di uscire in un formato predefinito eh cioè in un classico punto exe cioè eseguibile all'interno dei nostri software windows e dare la possibilità a colleghi a clienti a committenti di entrare direttamente nella scena e lo vedremo assieme fra eh qualche minuto così come l'elemento collaborativo che in scape chiama proprio collab cosa vuol dire vuol dire la possibilità di poter inserire delle note all'interno del eh del mondo del rendere questo diventa fondamentale perché quante volte ci siamo trovati a doverci scrivere su un pezzettino di carta oppure scrivere un messaggio del tipo guarda io cambierei magari a un collega cambierei il pavimento eh di questo progetto cambierei il tavolo eh inserito in questa stanza e così via ecco in scape ci dà una possibilità molto comoda eh che può essere diciamo così gemella eh del mondo eh BIM 360 in cui abbiamo la possibilità di aggiungere note direttamente nel progetto e scrivere cosa c'è che non va cosa andrebbe sostituito e così via così i clienti o i colleghi possono averne subito nota e diciamo così o riparare il danno nel caso in cui ci sia qualcosa proprio di sbagliato oppure eh proporre nuove soluzioni che possono essere di materiali così come di luci e così via altro aspetto sicuramente non trascurabile per tutti è il fattore del costo perché comunque escape ha un costo molto basso rispetto molto più basso rispetto a tante eh altre realtà e quindi è un aspetto che ovviamente in tutti diciamo così nella classifica dei pregi non può assolutamente essere eh trascurato e quindi eh deve essere diciamo così eh forzatamente inserito è un software che costa relativamente poco e quindi ci dà la possibilità ripeto ancora di creare immagini professionali ad un basso costo bene quindi io direi che ora possiamo già cominciare ad andare dal vivo e quindi andiamo subito eh ad aprire e adesso ce l'ho qui già aperto il nostro Revit e andiamo a crearci ad aprire diciamo così un progetto eh che eh usiamo come esempio per potervi far vedere diciamo così esplorare assieme quali siano le peculiarità di questo eh software e quindi per prima cosa andiamo un attimo scusatemi ecco qua lo riapro avevo chiuso per sbaglio andiamo a vedere i tutte diciamo così le caratteristiche che ora io semplicemente vi ho eh elencato eh via eh testuale quindi sotto forma di diapositive innanzitutto mi vado subito ad aprire la visualizzazione dall'alto quindi il site view all'interno di Revit e andiamo a rivedere appunto gli elementi peculiari che vi ho descritto eh pochi minuti fa qui nella barra nella multibarra superiore troviamo infatti una volta installato subito il plugin di Escape ecco questa è l'integrazione totale con Revit innanzitutto appena l'apriamo vediamo che ci sono pochissime impostazioni ce ne sono anche alcune spente perché ancora non l'ho avviato però vedete che non ci sono tanti pulsanti quali ad esempio gestisci materiali gestisci le luci come in programmi eh concorrenti ehm all'inizio anno sempre tramite NKE abbiamo avuto modo di fare un corso per quanto riguarda vorrei sicuramente render motori di render all'eccellenza per produrre elementi eh fotorealistici diciamo così anche molto spinti cioè di qualità estremamente elevata eh Escape raggiunge quei livelli ma allo stesso tempo ci permette una velocità e una gestione del progetto molto più semplice perché come vedete che qui eh non abbiamo appunto tanti pulsanti abbiamo più che altro possibilità di esportazioni di gestione della realtà virtuale di panoramiche eccetera e ovviamente le sue relative impostazioni perché questo perché l'integrazione è veramente totale con Revit vuol dire che ripeto ancora le luci la posizione del sole quindi luci artificiali luci naturali eh tutti i materiali rimangono sempre all'interno del progetto di Revit e questo ci dà una grande sicurezza soprattutto per quanto riguarda progetti già eseguiti cioè non abbiamo la necessità di dover per forza costruire dei progetti ad hoc all'interno di eh di Escape e cioè per essere poi prodotti o renderizzati all'interno di Escape quindi io direi possiamo subito partire parto con cliccando sul pulsante avvia ci vuole eh qualche minuto proprio per attivare alla prima attivazione il mondo virtuale di Escape proprio perché qui siamo all'interno di un mondo virtuale che adesso andiamo a eh scoprire assieme ovviamente in questo caso Escape viene eh gestito cioè riprende l'immagine della vista 3D per andare in vista prospettica ovviamente noi possiamo in qualunque modo in qualunque momento poter andare a settare la classica eh camera o cinepresa come la chiama eh Revit all'interno del nostro progetto per avere poi dopo una vista eh personalizzata quindi adesso io sposterò anche la mia finestra di Revit in un altro in un altro schermo per dare modo eh di eh che voi possiate visualizzare direttamente la finestra di eh Escape che eh eccola qua si è aperta in questo momento quindi vi chiedo solo un attimo di un secondo di pazienza che sposto la finestra di Revit eccola qua e così possiamo avete la visualizzazione del mondo di eh Escape che cos'è Escape vedete è una finestra un mondo che eh si è aperto adesso eccola qua la ingrandisco eh si è aperto di fronte a noi e vedete che ci fa vedere la vista 3D appunto selezionata e quella di default all'interno di eh di Revit io però voglio fare anche un'altra operazione cioè all'interno sempre di Revit e quindi mi risposto la mia finestra di Revit voglio ritornare nell'immagine eh dall'alto quindi nel site view e come in tutti i progetti voglio andare in vista selezionare una cinepresa e ad esempio crearmi una mia vista quindi ad esempio possiamo fare da qui e nel classico modo come già sappiamo ci possiamo creare una vista all'interno di eh del nostro software di disegno vedete che subito automaticamente c'è un'esportazione eh che è venuto fuori con un simbolo della multibarra che sta a significare che in Escape ha registrato questa nuova vista vuol dire semplicemente che se io ritorno sulla multibarra eh di Escape che adesso vediamo tutta accesa proprio perché è attivo il nostro motore eh di render attraverso questa semplice finestrella io posso scegliere quale documento attivo voler renderizzare o meglio dire quale vista io voglio renderizzare o perlomeno quale sarà la mia vista di partenza quindi non devo far altro che aprire questo menu a tendina selezionare vista 3d1 che è quella appena creata vedete che subito il software Escape si aggiorna e adesso non devo far altro che di nuovo rispostare il mio Revit sul secondo monitor ed ecco che qui abbiamo già subito il nostro risultato come possiamo ben notare e qui ovviamente in questo progetto ci sono già dei materiali ripeto ancora sono materiali tutti settati all'interno di Revit stesso quindi con eh le classiche texture della diffusione cioè il diffuse così come le classiche texture di bump cioè di rilievo e così via così come anche tutto il materiale dell'acqua oppure anche le luci interne quindi in Escape noi non abbiamo aggiunto assolutamente nulla questo è proprio la visualizzazione in real time cosa vuol dire real time vuol dire che questa non è un'immagine statica cioè io sono all'interno di un mondo virtuale come guardiamo un po' assieme allora innanzitutto se io uso il mouse e tengo premuto il tasto sinistro spero che il monitor non vada c'è la la vostra visualizzazione non vada troppo a scatti ehm io muovo la testa cioè mi giro attorno al mio progetto e spero che siate in grado di vederlo direttamente anche dalla webcast si nota subito che gli alberi quando la vegetazione quando io mi muovo vedete che sono sottoposti a una sorta di forza del vento e questo è fondamentale quando io rilascio il pulsante invece si bloccano perché perché ci danno la possibilità di essere differenti non diversi ma semplicemente differenti in funzione di una realtà ambientale che è classica di una realtà cioè le foglie si muovono i rami in funzione del proprio spessore sono in movimento e di conseguenza questo ci aiuta a far sì che il render sia sempre più preciso o perlomeno sempre più tendente alla realtà quindi io col pulsante sinistro mi muovo e mi guardo attorno vedete anche l'effetto dell'acqua spero che sempre lo possiate notare eh attraverso la condivisione e l'acqua si muove quando io mi muovo per guardare attorno e quindi in qualche maniera è vivo ciò che io sto eh guardando ovviamente le persone il resto questo no perché sarebbe comunque un'animazione ben più complessa così come il pulsante sinistro mi consente di muovere e girare attorno la mia vista il pulsante destro invece mi consente un'orbita attorno al mio ehm al mio modello e questo quindi già mi consente di potermi muovere con assoluta eh indipendenza rispetto a tutto vedete io mi posso muovere ovviamente con la classica rotella del mouse avanti indietro e quindi posso creare una sorta di percorso posso muovermi posso diciamo così non semplicemente solo analizzare quanto è bello il progetto ma posso soprattutto analizzare se il progetto va bene oppure no cioè ad esempio se eh la posizione di queste mattonelle sul bordo piscina sono corrette oppure no e quindi non devo far altro che andare vicino quindi orbitare eh vicino alle mattonelle e ad esempio chiedermi se eh diciamo il posizionamento di questa struttura pavimento può essere eh buona oppure ad esempio è da cambiare questo significa essere nel real time cioè significa guardare una finestra di render al fine di scoprire se il proprio progetto corrisponde alla eh a ciò che abbiamo in testa oppure eh no e e quindi questo è un aspetto fondamentale così come ovviamente io posso vedete adesso mi sto abbassando posso orbitare attorno a questo progetto anche ad esempio attraverso i tasti eh della tastiera e quindi potermi spostare con precisione sinistra destra avanti indietro e ovviamente anche su e giù un po' una sorta come se stessimo diciamo così eh pilotando un drone e questo è un aspetto che è importante perché innanzitutto ci permette di curare una vista e quindi un render statico eh con dettaglio ma soprattutto ripeto ancora ci consente di esplorare la nostra il nostro modello cioè ad esempio se io volessi entrare all'interno della cucina non devo far altro che fare un doppio clic che in questo caso l'ho fatto sul pavimento stesso e allora non devo far altro che alzarmi e vedete che render lavora sempre eh in diretta mentre io mi sto muovendo cioè si adegua in termini eh qualitativi e vedete che adesso io appunto posso muovermi posso scegliere di andare ad esempio vicino a questo tavolino semplicemente con un doppio clic ora alzo anche un po' lo sguardo ad esempio per esplorare il divano o l'arredo attorno e questo mi consente un'esplorazione del progetto che altri motori di render ovviamente non mi danno ecco qui è come se fossi prima usato la parola eh diciamo così un drone quindi se volassi all'interno il bello è che anche posso scegliere altre modalità di eh movimento come ad esempio la possibilità di camminare cioè ad esempio eh se io ora attivo la modalità di camminamento vedete che leggermente l'immagine si è abbassata cioè siamo diciamo così ad altezza la cosiddetta altezza uomo vuol dire che se ora io ad esempio vado in avanti spero che lo possiate notare io adesso vado avanti e indietro così anche per eh farvelo vedere meglio il eh il personaggio diciamo così il nostro personaggio cioè il personaggio che stiamo guidando sale effettivamente questi gradini che ci troviamo qui in basso e quindi io posso vedere la scena direttamente come se fossi una persona direttamente sul luogo ovviamente mi è consentito il passaggio attraverso le finestre stesse ma qui incontro ad esempio altri gradini e vedete che appunto il mio personaggio adesso senza andarsi a buttare dentro la piscina però segue le differenze del mondo in 3D e questo ci può dare la possibilità appunto di scegliere anche la vista più corretta per le nostre immagini statiche cioè ci dà una proporzione che è reale nel mondo del eh del nostro rendere o meglio dire bisogna un po' superare questo concetto del render singolo ma bisognerebbe cominciare a parlare proprio di visualizzazione architettonica o di design ok quindi detto questo appunto notiamo che il mondo attorno a noi è molto diverso rispetto ai classici motori di rendere anche quelli in real time ma perché molti motori di render ci danno una visualizzazione in real time però solo di una vista qui noi abbiamo praticamente abbandonato il mondo temporaneamente ovviamente il mondo di di Revit e ci siamo buttati all'interno della visualizzazione del nostro eh progetto ecco poi ci sono tanti altri aspetti importanti allora provo un attimo adesso ad allontanarmi e mi sollevo anche un po' quindi sono ritornato in vista diciamo così drone quindi volo proprio per dare la possibilità di farvi vedere un altro aspetto importante proprio perché siamo all'interno di un mondo di visualizzazione io vorrei subito potermi rendere conto in maniera diretta come eh si comporta la luce naturale all'interno delle varie fasi dell'ora solare cioè del movimento del sole non solo andandolo a cambiare attraverso i classici controlli che Revit ci ci offre che sono comunque controlli precisi eh che se conoscete Revit ovviamente sapete che sono le classiche impostazioni eh del sole che ci danno ovviamente la possibilità di salvare un'illuminazione singola oppure un giorno fisso più giorni o così via queste rimangono sempre gli elementi di base quindi se io vado ad esempio a prendere un giorno fisso e sono posizionato come località in Germania ovviamente questo è la posizione che prende di eh come predefinito o di default come si usa come si usa dire così come la data e così come l'ora però oltre al fatto di poter anche inserire all'interno del nostro progetto la visualizzazione delle ombre io però vorrei avere la possibilità di eh controllare e di conseguenza osservare come si muovono eh le ombre all'interno del mio progetto di visualizzazione cioè voglio rendermi conto e voglio scegliere quale impostazione può essere la migliore o la più adatta per la mia ehm rappresentazione o la mia copertina come abbiamo detto a inizio lezione quindi in questo caso ritornando nella mia finestra di ehm di escape non devo far altro che usare la combinazione di mouse maiuscola e tasto destro e vedete che nel lato destro del ehm computer compare appunto un'ora ecco ovviamente quest'ora mi corrisponde all'ora solare impostata da Revit quindi io ho la possibilità di vedere in diretta e lo notate perché cambiano tutte le ombre ora stiamo salendo verso le giornate le ore eh centrali del giorno quindi siamo verso mezzogiorno e così via e quindi cambiano le ombre cambia ovviamente la direzione dell'ombra dell'ombra stessa siamo già verso sera il sole è dietro ecco che adesso comincia la sera se notate sulla destra continuo a muovermi perché così lo possiate notare è venuto anche il simbolino di una luna e quindi quando il sole sparisce ovviamente si vedono le luci interne anche queste sono tutte le luci IS direttamente impostate all'interno di Revit poi tramite escape possiamo scegliere se le vogliamo più luminose o meno luminose perché ad esempio notavo prima che se eh ci addentriamo diciamo così nella notte vedete o comunque quando eh il sole non c'è più vedete che il bagliore è è molto forte questo dovuto all'esposizione della camera proprio per questa vista diciamo che è una vista molto cinematografica il tipo di effetto che che ne viene fuori e vedete che con poco comunque si riescono subito a ottenere dei risultati che eh a differenza di altri render possiamo anche già definire eh sorprendenti quindi la luci naturali così come luci eh artificiali vengono semplicemente gestite dalla eh dall'orario e dalla posizione geografica esattamente così come in Revit stesso attraverso vedete la semplice gestione e la scelta di che tipo di luce io subito voglio ottenere ok quindi spostiamoci scegliamo una un po' più gradevole anche proprio per la visualizzazione diciamo così eh a monitor di condivisione e andiamo anche ad esplorare eh o perlomeno così vi faccio una sorta di presentazione di quali sono come vi ho già accennato prima gli aspetti peculiari di questo software altre cose ed aspetti molto interessanti ad esempio abbiamo la possibilità sempre all'interno della nostra finestra di accedere a una modalità mappa vedete qui in alto a sinistra io qui ho la mappa della mia posizione della fotocamera in cui vedo il mio progetto ovviamente se io mi muovo di conseguenza si muove anche la posizione relativa della mia camera rispetto all'oggetto stesso così se vado a fare un doppio clic direttamente sulla mappa come ho fatto ora vedete che ovviamente mi sposto all'interno del progetto cioè della scena del mio progetto come potete notare qui non si tratta più di lavorare su una singola immagine qui siamo proprio nel mondo dell'esplorazione del nostro progetto quindi ora disattivo la mappa per farvi vedere un altro aspetto perché noi siamo eh e lo ripeto ancora ed è qui e qui sta la grande forza di questo prodotto è di essere collegato a Revit Revit ovviamente leader dei programmi eh BIM e tutto questo aspetto BIM semplicemente perché siamo in rappresentazione noi non possiamo scordarcelo o perlomeno diciamo così dal punto di vista del processo produttivo passare da un mondo all'altro e scordarsi del precedente sicuramente non ha un grande approccio professionale quindi noi abbiamo all'interno di Escape la possibilità sempre dell'analisi degli oggetti BIM guardate se io ad esempio accendo la modalità esplorazione succede che a sinistra mi compare tutta la lista dei miei oggetti appunto suddivisa in informazioni BIM e vedete che adesso se io passo il mouse sopra al mio progetto vengono le classiche forme della selezione che siamo già abituati a vedere all'interno del nostro programma di disegno quindi se io vado a cliccare su questo oggetto vedete che in Escape mi dà subito tutte le caratteristiche tra cui il nome la famiglia eh i contrassegni le altezze eccetera che mi servono subito per capire quale tipo di oggetto esso sia se io ad esempio clicco su questo pavimento vedete che qua a sinistra mi dice che appunto è il pavimento della terrazza quale spessore ha eh qual è la sua area il perimetro le altezze le quote meglio dire e così via quindi qual è addirittura il suo materiale e ed è importantissimo per questo aspetto perché non mi costringe a ritornare all'interno del mio programma di disegno appunto Revit fare la un'ulteriore selezione quindi uscire da questa vista da questa modalità per poi eh andare a modificarne le relative proprietà del dell'oggetto quali la forma i materiali oppure appunto la sua mh grafica stessa cioè le proprietà di eh di visualizzazione questo è un aspetto molto importante perché appunto così come prima vi avevo detto che è un software semplice è proprio su questi aspetti io tramite il semplice tasto B sulla tastiera attivo la possibilità di esplorazione delle informazioni BIM all'interno della mia scena ok quindi in qualche maniera nulla di più facile per poter eh esplorare sia in modalità di visualizzazione che in modalità tecnica proprio questa mia scena ovviamente non è finito qua abbiamo anche tanti altri aspetti come ad esempio le possibilità di visualizzazione che io personalmente utilizzo tanto nelle modalità eh diciamo così di eh rappresentazione di un progetto cioè non sempre o non solo c'è la visualizzazione fotorealistica ma allo stesso tempo posso avere la necessità di visualizzazioni che siano più orientate verso diciamo così forme classiche del disegno per farvi vedere questo io semplicemente vado a eh attivare le impostazioni visive del ehm del nostro escape e quindi una volta attivate le impostazioni visive eccole qua mi risposto scusate un po' questo gioco sembra un po' il gioco delle carte ma serve per poter fare in modo che voi vediate in maniera in maniera corretta io posso dare la possibilità di varie modalità di visualizzazione andiamole un attimo ad esplorare quindi mi risposto sempre sulla destra eh la finestra così voi abbiate una finestra tutto schermo con cui vedere subito i risultati innanzitutto io posso andare a selezionare una modalità bianco come se fosse diciamo così fatta a modello ora sembra quasi coperta tutta di di neve ma cosa significa significa avere la possibilità di far vedere il progetto solo con luci ed ombre e quindi eh escludere tutta quella parte eh diciamo così di caratteristica e di forza che gli dà il materiale stesso non solo posso avere questa possibilità ma posso anche utilizzare questa modalità bianco appunto per attivare una sorta di contorni quindi come se fossero tutti i bordi ripassati con la matita o con un penarello molto utile questo io sinceramente eh insieme ai miei colleghi la utilizziamo tanto questa eh modalità proprio perché ci dà la possibilità poi con un successivo eh programma di eh fotoritocco diffondere insieme sia la modalità chiamiamola così bianca insieme alla modalità poi più prettamente fotografica perché dà la diciamo così l'impressione proprio di un eh disegno di un lavoro in corso in qualche maniera o comunque avere subito la possibilità veloce di poterlo gestire vedete in pochi secondi come lo fatto attraverso la semplice gestione dello stile e della sua modalità subito escape ci dà questo visualizzazione del nostro mondo di progetto in maniera semplice e efficace così come eh posso non solo eh esplorare il mio progetto dal punto di vista dei rapporti volumetrici come appunto è questa modalità bianco così posso anche esplorare il mio progetto dal punto di vista delle sorgenti luminose eccolo qua vedo che si è aggiornato anche nel vostro nella condivisione vedete che attraverso la modalità che escape chiama vista luminosa io posso andare a vedere quali sono le aree più colpite dalla luce e quali meno questo mi rende subito conto mi fa rendere subito conto eh di come è strutturata o meglio dire distribuita la luce all'interno del mio progetto questo è un aspetto fondamentale che pochissimi altri software eh in modalità real time hanno e quindi di conseguenza è eh un aspetto che spesso viene utilizzato per chi ha il il motore di rendere escape installato proprio per rendersi subito conto dove colpisce la luce quali sono le le parti più eh illuminate e così via ovvio che se poi la togliamo ci rendiamo subito conto che le parti che erano tendenti con colore tendente al blu rispetto al rosso ovviamente sono le parti meno illuminate e ecco questo è un aspetto fondamentale anche di eh di questo software ripeto ancora la possibilità di buttarci uso questa parola subito dentro una scena e poterla in qualche maniera vivere direttamente ma continuiamo con le peculiarità di questo software guardate un po' se io ad esempio dicessi andiamo a scegliere questa parte che prima ad esempio avevo notato e avevo detto che eh diciamo così non mi aggrada più di tanto cioè la disposizione di questo pavimento che è qui al centro ok qui vediamo ad esempio un taglio delle mattonelle che potrei ad esempio eh suggerire a un collega oppure anche solo semplicemente come nota mentale personale di fare qualche sostituzione guardate anche in questo caso nulla di più semplice perché mi basta semplicemente cliccare col destro e guardate un po' c'è proprio la voce crea problema quindi se io creo un problema appena eh li clicco col sinistro subito ehm escape mi dà una renderizzazione dell'immagine cioè crea un classico screenshot mi dà la possibilità di subito visualizzare un elemento classico ormai lo conosciamo dai vari navigatori che quindi mi indica un punto e a sinistra ho la possibilità di inserire un titolo e specificare qual è il problema e quindi io ad esempio potrei scrivere sostituzione pavimento e ad esempio in descrizione adesso ovviamente sto semplicemente inventando cambio materiale non devo far altro che dopo aver scelto questa nota non devo far altro che salvarla ecco vedete che qui è venuta fuori una nota sostituzione pavimento che ovviamente quando io andrò a chiudere questo pannello la nota sparirà ma appena io vado a premere o c sulla tastiera oppure ricrea un altro problema vedete che la nota è stata segnalata in questo punto e vi dirò di più la cosa interessante è che se usciamo in una modalità proprietaria di escape quindi un file eseguibile su qualunque computer anche senza avere né reddit né escape tutte queste note sono visualizzate quindi potrete visualizzare questo mondo 3d del progetto anche su una piattaforma cioè su un computer che non possiede direttamente questi software e così i vostri colleghi possono visualizzare quali problemi sono stati diciamo così portati a nota o meglio ancora i vostri colleghi possono segnalare a voi stessi quali possono essere i problemi e quali i dubbi o quali sono diciamo così le realtà da sostituire quindi voi potete inviare loro un non semplicemente un'immagine ma una scena completa che loro possono all'interno della quale loro possono navigare e segnalare se ci sono delle cose da modificare o delle cose da mantenere o comunque quelli che escape chiama problemi ok tutto questo è frutto proprio della questa nuova funzione di escape che appunto si chiama collaborazione e diventa assolutamente fondamentale come altri aspetti che abbiamo segnalato prima mentre vi introducevo al software abbiamo anche tanti altri pregi vediamoli un attimo come carrellate veloce vi parlavo prima della possibilità 1932 mi pare se mi ricordo esattamente il numero esatto di inserire oggetti all'interno della nostra scena attraverso appunto la libreria degli asset vedete che quando io clicco sulla libreria degli asset si apre la libreria asset di escape e mi consente la scelta di tutti questi elementi che sono qui all'interno io avevo detto 1932 invece sono già a 1960 con l'ultimo aggiornamento questi vengono sempre aggiornati e quindi di conseguenza possono essere sempre messi allora solo una parentesi perché vedo una domanda alle domande rispondiamo in fondo ne approfitto solo per rispondere proprio a valentina che saluto sì le note sono proprio anche nell'eseguibile e questo è un aspetto fondamentale proprio perché così la collaborazione è veramente efficace quindi chi guarda l'eseguibile può inserire le note e chi ovviamente anche crea l'eseguibile può inserire le note poi comunque potete tranquillamente sbizzarrirvi con le domande e a fine rispondo molto volentieri a tutto come vedete appunto noi abbiamo la possibilità qui di inserire qualunque tipo di oggetto abbiamo i nostri accessori che possiamo inserire vedete quanti ce ne sono abbiamo anche elementi di costruzione così come persone oggetti ospedalieri che l'ultimo intervenuto anche se non è proprio diciamo così l'argomento di di quest'anno ma abbiamo soprattutto la vegetazione che diventa un aspetto fondamentale proprio per le caratteristiche peculiari del nostro motore di render quindi inserire fiori inserire palme rocce e così via ok come vengono inserite vengono inserite direttamente dentro la nostra scena di eh di Revit e vengono inserite sotto forma di mesh molto molto leggere quindi andiamole un attimo a vedere questi non sono del eh degli RPC come vengono gestiti all'interno di eh di Revit e mi risposto di nuovo la finestra di Revit all'interno eh del monitor ma vengono vedete come ad esempio eh è questo il caso di questo tuffatore ehm vengono semplicemente inseriti come mesh retopolizzate cioè cosa vuol dire vuol dire che sono mesh semplificate che poi dopo in fase di render vengono eh curate e messe diciamo così a dettaglio eh potete notare che anche molte delle librerie sono dell'Ivermotion che è una delle migliori case che produce oggetti per tutti noi che lavoriamo nell'ambito del eh del 3D stesso quindi ad esempio se vogliamo fare una prova al volo io ad esempio potrei voler spostiamoci un po' con la vista ad esempio inserire un bel spostiamoci ad esempio sugli animali un bel cagnone proprio qui sul eh sull'erba ad esempio possiamo scegliere Pepper qui seduto e poterlo inserire direttamente qua dentro ovviamente non possiamo farlo sulla sulla scena virtuale dobbiamo andare a prendere il nostro eh Revit ma prima di tutto dobbiamo fare in modo anche di eh poter visualizzare quest'area quindi ce l'abbiamo qui proprio diciamo così di nell'angolo possiamo sfruttarla per non andare a creare altre viste e quindi semplicemente io clicco sull'iconcina che voglio eh inserire e poi dopo vediamo se me lo dà eccolo qua vedete che ehm all'interno di Revit io vado a inserire effettivamente proprio questa mesh ecco l'ho posizionata qui poi ovviamente essendo un oggetto lo posso ruotare lo posso scalare le solite eh posizioni classiche di qualunque oggetto di eh di disegno ecco l'ho posizionato magari potrei anche diciamo così girarlo per fare in modo che la testa guardi direttamente il suo ipotetico padrone che si sta tuffando in maniera anche un po' interrogativa però adesso ci possiamo accontentare e vedete che appena io l'ho inserito mentre qui in Revit è semplicemente una mesh rappresentativa eh invece all'interno della mia scena di Enscape vedete che proprio qui bello adagiato sul nostro tappeto d'erba ecco l'ho chiamato tappeto d'erba proprio perché questa è erba eh procedurale cioè erba creata sul momento infatti se io mi abbasso ecco qua mi avvicino vedete che l'erba si muove esattamente come fa tutta l'altra vegetazione sono fili d'erba che noi possiamo gestire direttamente all'interno del nostro Revit cioè basta cambiare semplicemente nome al materiale e possiamo scegliere di avere un'erba diciamo così selvaggia un classico prato all'inglese o e così via sotto forma sempre di elementi procedurali uno diverso dall'altro e eh se usate anche altri software sapete bene comunque quali sia anche la difficoltà per avere un erba che sia reale nel mondo dei rendere così come l'acqua stessa eh bene andiamoci un attimo alla conclusione perché mi sono dilungato un po' tanto però comunque vi voglio far vedere alcuni aspetti che ritengo eh fondamentali che ovviamente andremo tutti ad esplorare in dettaglio durante il corso perché ci sono altre ehm diciamo così modalità importanti eh per quanto riguarda escape quindi la possibilità ad esempio di gestire a riapro le impostazioni visive di gestire le nuvole all'interno del cielo ma semplicemente nel caso di eh di escape non sono solo quante nuvole devono sono presenti nel nostro cielo ma guardate un po' io ora vado a modificare lo slider del delle mie nuvole se notate poi magari posso anche eh cambiare un attimo l'orario vediamo se così si vede un po' meglio anche dalla eh dalla vostra condivisione cambiano anche i rapporti di luce cioè se io aumento tanto le nuvole come in questo caso vedete che tutto risulti risulta leggermente più opaco e quindi le nuvole influiscono tanto anche la rappresentazione del nostro oggetto quindi se io voglio degli elementi meno colpiti dalla luce allora non devo far altro che aggiungere nuvole al mio progetto cioè le nuvole non servono semplicemente come oggetti da posizionare sul cielo ma condizionano anche la luce stessa così come ad esempio io posso variare eh la condizione del vento o meglio dire l'intensità del vento stesso questo vedete adesso se io mi muovo e gli alberi e la vegetazione si muove tanto che cosa serve questo serve a creare varie viste e che siano sempre diverse l'una dall'altro cioè i rami le foglie e eh gli altri aspetti della vegetazione saranno sempre diversi in qualunque vista io andrò a fare e questo anche questo è un aspetto assolutamente eh da non eh sottovalutare così come tutti gli altri aspetti più prettamente visivi come ad esempio la possibilità di eh avere i cosiddetti filtri eh più cinematografici ad esempio se io mi sposto su un'ora del mattino in questo caso la luce viene esattamente eh dietro di me eccola qua adesso proviamo un po' ad aumentarla io ovviamente posso sfruttare tutti questi effetti come potete notare qui a dietro dietro l'albero proprio più diciamo così cinematografici cioè i classici eh riflessi del degli obiettivi quindi aumentare oppure diminuire questi tipi di effetti così come la possibilità di accendere eh o meno la possibilità della nebbia vedete a mano a mano io sto ora sto aumentando la nebbia e quindi tutto il concetto o la visualizzazione del pulviscolo come potete vedere qui attraverso questi raggi solari è molto facile da raggiungere così ora io ovviamente ho puntato la telecamera direttamente sul ho spento la nebbia in questo caso direttamente sul sole ma se io mi girassi un po' verso il mio modello eccolo qua io se vado ad accendere la nebbia vedete che tutta la parte esterna viene offuscata e quindi mi crea quell'immagine un po' più ehm diciamo così permettetemi il termine più di moda in questo momento nell'ambito dei render dove spesso la nebbia viene utilizzata ma semplicemente come espediente di visualizzazione cioè lo sguardo in questo caso si sposta verso l'area più nitida che appunto è l'interno della casa ovviamente abbiamo anche tutte le possibilità per quanto riguarda la gestione della eh delle proprietà della camera stessa come ad esempio la possibilità di gestire i punti di fuoco io ad esempio adesso sto sfocando diciamo così un po' all'inverosimile e posso anche andare a scegliere vedete mi dà la possibilità attraverso un rettangolo bianco di scegliere qual è il punto di fuoco ad esempio potrei scegliere più o meno di posizionarlo sulla figura umana e in questo caso abbasso anche un po' l'effetto di profondità di campo e vedete che qui fuori è sfocato mentre l'interno risulta perfettamente a fuoco e anche questo è un espediente di visualizzazione che porta l'occhio a eseguire un determinato percorso all'interno dell'immagine per essere concentrato nelle parti eh che noi vogliamo porre attenzione. Concludo e rimetto un attimo anche la possibilità dell'autofocus e spegnendo la profondità di campo eh concludo con le ultime due cose per quanto riguarda questa esplorazione che ripeto ancora andremo per bene a indagare all'interno del corso in maniera tale che voi possiate avere la piena gestione di questo visualizzatore in real time. Quindi eh parliamo un attimo velocemente delle esportazioni perché noi abbiamo la possibilità di creare dei render panoramici a 360 gradi cioè nulla di più di sfere nelle quali siamo all'interno le classiche visualizzazioni di street view ad esempio quindi siamo già abituati a vederli cosa che però ci consente la possibilità di caricarli in maniera agevole all'interno di eh una piattaforma web e quindi eh dare la possibilità anche alla committenza o alla clientela di poterli visualizzare eh attraverso un accesso personalizzato oppure di creare dei video all'interno della nostra scena anch'essi modalità estremamente semplice perché basta navigare e settare le posizioni delle camere e al resto pensa tutto escape e così come la possibilità delle varie esportazioni. Ecco non facciamoci confondere dal concetto di screenshot che per escape significa semplicemente fare un render cioè eh creare un render sul momento anziché creare un salvataggio della vista stessa. Se però guardiamo il pacchettino dell'esportazione vedete che abbiamo due realtà abbiamo un web stand alone e un ex stand alone cioè un elemento eseguibile. Allora io ora anche per far prima perché comunque siamo nell'ordine dei due tre minuti ehm necessari al software per poter elaborare questo tipo di oggetti eh li ho già preparati e che così ho la possibilità di farveli vedere. Allora partiamo subito da questo. Questa è il nostro mondo reale in modalità web e sport cioè vedete qui sono nel mondo di eh Google Chrome e vedete che io sto navigando esattamente come se fossi dentro la finestra di escape con dei dettagli meno vedete non ho l'erba non ho riflessi particolari ma mi posso muovere sono finito sotto un po' al gradino esattamente come eh vi facevo vedere prima perché non ho effetti particolari perché qui ovviamente è privilegiata la possibilità di navigazione leggera e quindi di conseguenza alcuni riflessi alcune tipologie di materiali diciamo così sono meno curati proprio per privilegiare la velocità di esecuzione. Questo è un ottimo elemento che ad esempio la eh la clientela stessa o la committenza stessa può eh direttamente eh visualizzare il progetto e in questo caso lo dico un po' col sorriso sulla bocca adagiarsi proprio su questo divano. Nella stessa maniera ma in modalità molto più ricca che serve appunto per fattori di collaborazione e altro possiamo andare a vedere invece e abbasso le mie finestre la funzione exe e che io ho già prodotto e ho salvato in questo file. Vedete che questo file è di 579 megabyte quindi è sicuramente più pesante della versione web che abbiamo visto eh pochi minuti fa. Quindi all'interno di questa eh finestra io avrò una maggiore ricchezza di eh di dettagli e di funzione. Mentre lo andiamo ad aprire eh mentre che aspettiamo che che si apra vi faccio notare che qui a sinistra nella versione web abbiamo addirittura un menu che ci dà la possibilità di scegliere anche alcuni parametri come ad esempio la luminosità o il campo eh visivo che vogliamo scegliere e ovviamente anche la possibilità di scegliere come debbano essere i nostri movimenti in funzione della velocità del mouse o della tastiera. quindi solo ed esclusivamente due aspetti la visualizzazione e l'input. Vedete che nella visualizzazione c'è anche il parametro render style che se andiamo ad aprire avete anche il white mode che è esattamente quello che abbiamo visto assieme prima in vista reale. Bene adesso andiamo a vedere se eccolo qua si è già aperto questa è la versione invece exe cioè vuol dire la versione più ricca di contenuti infatti qui anche se siamo diciamo così all'alba eh vedete che è ehm eh c'è è presente anche l'erba ed esattamente come ho fatto io prima cioè direttamente muovendo col mouse qui abbiamo sempre il nostro cagnone in primo piano vedete che è esattamente come essere prima nella finestra di enscape e sempre qui a sinistra abbiamo un menu simile a quello di prima e che quindi possiamo andare a settare le nostre impostazioni così come le modalità di visualizzazione così come l'input così come anche per la realtà virtuale e anche scegliere se vogliamo eh una risoluzione automatico oppure l'erba oppure no e questo vuol dire uscire dal nostro eh programma diciamo così e poter eh lavorare direttamente all'interno di una visualizzazione eh e di una macchina che non debba avere per forza la eh il software montato quindi le possibilità offerte da questo programma sono davvero molteplici sono alcune di esse anche innovative come questo tipo di visualizzazione di scena io la uso chiamare visualizzazione di scena perché non è semplicemente un eh immagine fisica e quindi un'immagine statica e quindi è proprio diciamo così una bella novità per tutti coloro che operano in ambito BIM e vogliono renderizzare delle immagini professionali io con questo concludo vi aspetto al corso che parte appunto dal diciassette novembre duemila e venti qui in questa pagina trovate tutte le informazioni eh alle quali potete fare come contatto potete usare come contatto quindi ovviamente il sito ufficiale di NKE NKE tre sessanta punto com così come la mail per tutte le informazioni info chiocciola NKE tre sessanta punto com e se avete delle informazioni specifiche o delle richieste specifiche potete scrivere anche direttamente a me a paolo punto formaglini chiocciola NKE tre sessanta punto com per eventualmente avere anche delle delucidazioni dal punto di vista del corso stesso tengo a precisare vi rubo solo gli ultimi eh minuti eh tengo a precisare che sarà un corso pratico quindi faremo tanti render assieme e troveremo tutte le soluzioni per avere delle immagini professionali e delle soluzioni web anch'esse professionali ne approfitto eh per salutarvi e ringraziarvi molto della attenzione visto che siete sempre numerosi durante queste presentazioni ringrazio ancora NKE per la possibilità ed ora per chiunque voglia rispondo alle vostre domande grazie ancora e buona giornata allora passiamo un attimo alle eh domande eh no purtroppo rispondo a Daniela e no scusatemi a Salvatore ehm gira su Revit LT no non gira su Revit LT ci vuole eh Revit standard eh funziona come programma stand alone eh chiede Luigi no non funziona come programma stand alone funziona come ehm plug in all'interno di eh Revit i plug in non sono però eh singoli mi spiego meglio funziona sia per Revit che per Rino che per SketchUp e anche altri anche Archicad ad esempio e eh una volta installato semplicemente escape qualunque programma voi abbiate all'interno automaticamente vi trovate escape cioè non c'è un plug in un software eseguibile per ogni tipo di ehm software che voi utilizzate ad esempio io in questo computer ho Revit 2020 e Revit 2021 eh quando ho installato escape mh automaticamente questa nuova versione 2.8 automaticamente è stato inserito sia dentro il Revit 2020 che dentro il 2021 così anche come all'interno di SketchUp. che ho sempre eh installato no con AutoCAD non è eh compatibile purtroppo chiede sempre eh Luigi e mh e quindi mh purtroppo diciamo così perché anch'io sono eh nasco diciamo così come disegnatore dal mondo proprio puro di AutoCAD però eh è eseguibile esclusivamente all'interno di eh di Revit. ehm allora Massimiliano mi chiede che processore consigli beh guarda non serve un ehm 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 una ehm un processore particolare dal punto di vista proprio della CPU serve eh soprattutto una GPU eh io consiglio eh le invidia le invidia le invidia vanno comunque tutte bene però ecco non è che serva una postazione diciamo così particolarmente sofisticata visto che comunque è presente una versione di prova di quattordici giorni eh presso il sito di Escape io quello che consiglio sempre è quello di installare una versione di prova e poi provare se funziona e vedere che tipo di reazioni ehm di reazione diciamo così sia sul proprio eh computer eh scusatemi prima mi ero soffermato stoppato un secondo eh per una risposta appunto di di Luigi in merito ad AutoCAD ehm di quanto tempo è stato utilizzato quindi anch'io e allora poi rispondo a Vittorio che chiede ho utilizzato Escape in una vecchia versione chiedo ci sono stati tantissimi progressi innumerevoli aggiungo eh arrivando alla visualizzazione del dato BIM ecco mi permetto anche di aggiungere che prima era proprio un classico motore di rendere mh diciamo così pur estremamente veloce però un classico motore di rendere di soprattutto di viste eh quali le prossime novità legge tutti i parametri da Revit o solo quelli standard no legge tutti i parametri di Revit ehm oltretutto ci sono alcune opzioni in più che vengono inserite come delle keyword come ad esempio la possibilità di dare alcune caratteristiche ad alcuni tipi di materiali quali eh l'acqua l'erba ecco ad esempio l'erba si utilizza il eh il classico materiale di Revit che è appunto il grass basta semplicemente cambiargli nome e quindi creare una sorta di nuova keyword per appunto come vi dicevo prima scegliere se eh avere un'erba alta un'erba bassa un'erba tagliata fine e così via abbiamo eh quattro o cinque possibilità per scegliere il tipo di erba eh che vogliamo eh sfruttare e poi Diego mi chiede eh sono disponibili materiali per Revit con impostato texture e visualizzazione eh questo in aggiunta ai modelli allora sono disponibili tutto ciò che viene creato in Revit viene renderizzato all'interno di eh Enscape eh ovviamente alcuni risultati eh diventano migliori qualora eh ci si vada a personalizzare le texture ma ciò vale in qualunque programma di di rendere vale con programmi quali Vray ma così anche vale come il motore interno di di Revit stesso nel senso che se io vado a prendere un'immagine di una di un legno e quindi mi scelgo l'immagine di Fuse poi mi scelgo anche l'immagine della stessa texture speculare l'immagine della riflettività eh l'immagine del bump e così via ovviamente io eh acquisto una qualità in termini di visualizzazione render notevolmente più alta rispetto ai materiali base di Revit ma vuol dire che quel materiale viene avrà un risultato migliore sia nel motore di render di Revit e di conseguenza avrà un risultato migliore anche nel motore interno di Enscape ehm questo in aggiunta sempre Diego questo in aggiunta ai modelli non capisco cosa vuol dire cioè nel senso non abbiamo un parametri c'è un classico pannello eh se questo che eh mi volevi chiedere Diego ehm non c'è un pannello specifico di Enscape nel quale consente di strutturare i materiali è tutto all'interno di Revit se si cambia materiale in Revit cambia anche in Enscape non c'è un pannello specifico eh come ad esempio nel caso di eh Vray ehm legge anche i parametri di oggetti modelli Revit collegati a quelli di partenza? Sì Valentina eh poi Stefano chiede se non ho capito male il software può essere montato anche su altri programmi non solo su Revit ehm allora su edificus non lo so dire sinceramente non credo ehm perché funziona diciamo così può essere installato su ehm come plugin solo su elementi predefiniti cioè software predefiniti Revit SketchUp Archicad e ehm Vectorworks e altri che in questo momento non eh non mi ricordo ehm allora sfoglio un attimo le le domande ehm a Massimiliano mi chiedeva se Revit 2021 sì va bene quindi dicevo il processore ehm conviene di più un processore di scheda grafica però comunque io credo che ad oggi se avete un computer non troppo antiquato eh funzioni benissimo lo stesso ehm e quindi eh direi perlomeno di provarlo come vi ho suggerito prima ehm allora eh Diego mi chiede ehm nei 1906 modelli creati a Reddit che posso inserire come esempio il cane posso scaricare i materiali associati e farmeli eh no sono elementi che hanno già del degli elementi prestabilite però in Revit dopo li puoi li puoi scaricare questi materiali sì sono provisti di texture di bump e così via questo sì certo e e quindi ecco sì eh se la domanda è posso prendere la texture della pelliccia diciamo così del cane e poi dopo trasferirla in diciamo così in un oggetto di arredo ecco questo sì è possibile farlo come semplice estrazione di una texture e poi semplice ricaricamento all'interno di un altro eh materiale. Massimiliano mi chiede ancora eh ma i materiali comunque vengono gestiti solo in Revit in Escape li si visualizza solo? Sì esattamente eh vengono semplicemente solo gestiti in Revit quindi qualora abbiate dei pacchetti murari o altro semplicemente con le stesse procedure classiche di modifica di eh elementi materiali di Revit così eh vengono gestiti e visualizzati ricaricati all'interno di eh Escape. Attenzione ovviamente Escape è un motore di rendere quindi quando noi inseriamo una 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 semplice texture cioè intendo una classica immagine di un elemento materico eh chiaro che eh il motore poi dopo la elabora in determinati modi nel senso che eh questa immagine poi dopo eh subirà diciamo così delle differenze in funzione della luce del suo elemento di riflessione della sua specularità e così via. Ecco quello che andremo a fare nel corso sarà curare tanti materiali semplicemente non inserendo delle degli elementi di diffuse cioè le classiche texture ma soprattutto andremo a lavorare anche tanto sulle mappe di specularità quindi le creeremo anche attraverso un programma di fotoritocco proprio perché per crearci delle mappe speculari che sono eh fondamentali e soprattutto danno realismo al eh alla nostra immagine al nostro risultato. finale. Allora costi opzioni di eh acquisto mi chiede Stefano allora per questo io rimando tutta la palla al alle informazioni che potete prendere di eh NKE però occhio e croce siamo su pagamenti mensili eh veramente molto bassi sotto i cento euro mensili se non sbaglio siamo tra i cinquanta e gli ottanta euro però per questo sinceramente io rimando la domanda direttamente a ehm eh direttamente alla parte commerciale di NKE quindi in maniera molto eh semplice scrivete una mail a info chiocciola NKE360.com e avranno le persone migliori per potervi aiutare e eventualmente anche usufruire di sconti per quanto riguarda l'acquisto. Allora si possono vedere vedere esempi di funzionamento di resa con SketchUp eh allora possiamo eventualmente anche vederlo però non sarà argomento di questo corso. Eh i risultati ottenuti da SketchUp e da eh Revit comunque all'interno di Escape sono esattamente gli stessi. Cioè noi avremo attraverso comunque utilizzando eh Revit ci concentreremo proprio sulla come dicevo prima su anche sulle creazioni singole dei materiali per far sì che le stesse procedure o meglio dire lo stesso flusso di lavoro sia equivalente qualora poi dopo voi andiate ad usare un software diverso quale SketchUp o altri. Quindi alla fine eh il modo di eh arrivare a un render professionale è lo stesso eh a prescindere dal diciamo così dalla modalità eh scusatemi dal programma che usate diciamo così dietro. Eh ovvio che Revit e SketchUp sono due cose completamente eh diverse proprio per loro natura. In SketchUp ad esempio non è possibile utilizzare la funzione di ehm visualizzazione dei dati BIM all'interno della scena proprio perché SketchUp non è un programma BIM. Allora riscorro un attimo le domande se ne avessi eh persa qualcuna eh direi di no spero di non essermi eh perso delle domande eventualmente comunque scrive scrivetemi alla mail o all'indirizzo ufficiale di NKE sulla mail eh senza alcun problema. Mi approfitto quindi per ringraziarvi tutti che siete rimasti numerosi fino a quest'ora e ehm vi ringrazio ancora una volta vi auguro una buona giornata e eh vi aspetto al corso che partirà il sette novembre. Una buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie mille Paolo. Buona giornata. Grazie. Buona giornata.